Che cos'è ? Aiuto ! Salvatemi ! Aiuto ! Sembra un ragazzino bianco scappato di casa D'accordo, d'accordo, quietati, che è successo ? Mi stanno inseguendo Chi di grazie ? Ragazzate subito quel consegno ! Consegnate subito quel ragazzo Chi lo vuole ? Lo sceriffo di Rottingham E cosa ha fatto il ragazzo ? Cacciava di frodo nella foresta del re Ha osato cervare un ucciso del re Ha osato uccidere un cervo del re Ora basta ! Il re delle foreste illegali Maialino uccisamente, sapete, selvatici in un adel ? Cosa ? Voglio dire, non sapete che è illegale uccidere i maiali selvatici nella foresta del re ? Scusate ! Salve Abate ! Buon dì figlio ! Salve Abate ! Buon dì figlio ! Salve Abate ! Buon dì ! Salve abecchio ! E' uno strozzo quello ! Fratello, hai macchiato per sempre il tuo nome e per questo sarai punito ! Da questo giorno in avanti, sulla carta igienica fabbricata in questo nobile regno ci sarà... La tua immagine ! Ja!! Arrhe Machina